Formigine si sta preparando al nuovo piano di raccolta dei rifiuti che entrerà in funzione a scaglioni sul territorio comunale da giugno. I servizi sono già pronti e l'amministrazione è al lavoro per rendere minimo l'impatto del cambiamento. Verrà introdotto per Formigine in realtà il porta a porta della plastica. Da noi il porta a porta della carta è già attivo da 30 anni, quindi ci sarà solo da aggiungere un giorno a settimana la plastica che verrà esposta nello stesso punto dove già adesso tutti i cittadini espongono la carta. Nell'avvicinarsi al nuovo piano di raccolta il comune sta già organizzando diversi incontri con la cittadinanza e vari portatori di interesse come gli amministratori di condominio. Continueremo quindi a parlare nei consigli di frazione a maggio alla giunta al parco. Ci saranno gli operatori ieri che spiegheranno a tutti i cittadini effettivamente come sarà il servizio, come utilizzare la tessera perché i nostri cassonetti rimarranno praticamente uguali. L'unico cambiamento sarà sull'indifferenziato, ovvero che verrà aperto con la tessera smeraldo già attiva nel territorio circostante al nostro. Le aperture sono illimitate, quindi uno può utilizzare tutte le volte che vuole la tessera e se per caso uno è in giro anche ad esempio col proprio cane o ha piccoli cartacce e scontrini da buttare c'è una bocchetta laterale che quindi può usare tutte le volte che vuole senza utilizzare la tessera per aprirlo. Oltre all'indifferenziata alcuni cambiamenti riguarderanno anche il vetro e la raccolta di sfalci e potature. Inoltre altro grosso cambiamento sarà che in ogni isola di base, quindi dove sono i cassonetti, ci sarà sempre il vetro che non sarà più la campana ma un cassonetto più grande dove quindi non ci saranno liquidi a terra, sarà molto più pulita tutta l'isola di base e avrà diverse aperture, quindi anche quello che attualmente non riesce ad entrare nella campana potremo conferirlo senza problemi. Gli sfalci inoltre rimarrà un cassonetto come adesso aperto ma sarà più grande. Per quanto riguarda le zone di campagna, i rifiuti dovranno essere esposti nelle aree dove oggi sono i cassonetti. Non cambierà tanto nel senso che dovranno esporre il proprio cassonettino che verrà dato a ogni utenza nello stesso punto dove adesso ci sono i cassonetti, quindi non cambierà il modo nella quale loro espongono i rifiuti. Avranno due volte a settimana l'organico per esporlo, una volta a settimana l'indifferenziato e carta plastica rimane appunto una volta a settimana.